E dopo essere stata preannunciata, la neve è arrivata. I primi fiocchi ieri sera nelle zone collinarie montane, poi anche in pianura, imbiancando di pochi centimetri prati e campagne aride dalla scarsità di pioggia. Non si sono registrati particolari disagi, un po' di più nelle zone di colline montagna, ma gli automobilisti della nostra provincia dovrebbero ben essere in grado di cavarsela con la situazione neve. A Biel è stato il vice sindaco Giacomo Moscarò, l'affare è il punto della situazione nella serata di ieri. I mezzi Spargisale ha scritto, sono in azione sulla rete comunale, si prevede un'intensificazione dei fenomeni navosi nella notte per concludersi nella mattinata. E comunque i mezzi hanno salato l'intera rete stradale del comune. Ovviamente anche nei prossimi giorni non si esclude la possibilità di formazione di ghiaccio, dunque si raccomanda prudenza alla guida, in particolare durante le prime ore del mattino e in serata. E con la nevicata, attimi di paura si sono anche registrati in alcuni paesi dove si sono verificati episodi particolari di sfiammatura dei cavi. A Portola, Sostegno, Masserano e Bruslengo, la nevicata ha infatti creato danni ad alcuni cavi elettrici. I residenti di questi paesi si sono immediatamente allarmati, hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che con l'aiuto di operatori specializzati hanno comunque messo in sicurezza queste zone.